Occhio alla trappola ciccia ecco occhio raga Si ma Raga Facciamola un po' di gira gli addominali no gli addominali perché qua ci abbiamo un po' di A parte che fare addominali non serve a tirare giù la panca, serve camminare e correre per tirare giù Sei venuto fin qua, tu sei venuto fin qua per vederli in cecolaiera Il killer ci sente, è bello Dai dai Squad materna di Badam 4 E' il trapper Quando ti beghiamo no Andiamo di qua che Buonasera, salve Anche le orecchie da elf, eh quelli mi mancano le orecchie da elf Guarda che sotto le, eh, anche no, anche no eh Devo mettere ad addobbare un po' cosina Scusa, l'ultimo salter che mi dice che se era lì, che me l'ha fatta... Boh Si è pagato Eh, scusa, mi era qua il... sentivo il... cosa... sentivo un... un coso... è qua... Tum... vedi che è? Beh Ah, sarà la trappola? Cazzo! Squad master oventai Eh, paga Paga! Sborsa, spila, compra, investi A solda, bro Dieci euro, eh Guarda, l'unica skin che mi son comprato L'unica Aspetta Che cazzo è? Qua E' qui, eh Cazzo E' qui davanti Dieci euro Beh, ma non di quelle di Fortnite, eh Che... eh Cosa... cosa spendono quelli di... di Fortnite deve essere una cosa indicibile, ragazzi Una cosa indicibile Lo dico io Ah, basta Ah, ok Là Si vede che si era curato quello lì Tanto Dicidere Come non ti esce sul negozio? Figurati Ti sto sul cazzo, eh Ah, 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 ah l'hai trovato? eh ok qua abbiamo un elfo appeso no metti la trappola si infatti morsa di ferro morsa di legno occhio alla trappola ciccia ecco occhio raga si ma raga facciamola un po' di gli addominali no? gli addominali qua abbiamo un po' di a parte che fare addominali non serve a tirare giù la pancina serve camminare e correre per tirare giù surprise motherfucker c'è una merda fai cagare porca daai ma vai a fare in culo scusa credici credici eccolo oh mister brimes buonasera e continua a fare il cazzo di gesso suu minchia messo sotto ora arriviamo eh mi arrivi a prenderlo te che se 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 mi prende a me non mi 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 bene 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 sì ma caproia non mi prenda a me su quanto dico io aspetta eh lo sapevo ecco che cazzo si scende caproia siamo tutti qua sshhhh sshhhh pensate una merda assolutamente è andato via via my friend eh abbastanza dai no vieni qua cazzo no 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 torno indietro cazzo è qui eh grazie porfa fa culo ah 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 cazzo è qui eh bravo ah grazie porfa fa culo ah 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 ma cos'è stato ma cos'è stato sta roba ma se è incredibile ma che cazzo ah 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 torca minchia via a faccia del sandbag no cazzo 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 è rip è rip davvero no ti fatti i cazzi tuoi mi raccomando porca troia sei lì survivor survivor ms eh l'ultimo cosa facciamo quello di sotto vado a prendere il tipo aspetta un attimo ecco cattorei mi ha visto vieni ciccio scusa scusa minchia madonna no dai non li buccate puttana merda dai ma siete dei cretini siete no porca royal night dai dai è il sied proprio che gli darà la cagetta a spruzzo mentre madonna fatemi dire ste cose se ancora non hai fatto iscriviti al canale del pelato del tubo e clicca la campanella delle notifiche per non perderti i prossimi video a presto vi è un bel'altra cassia qui è un'unico qui è un'unico è un po' di calci ci 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 es Thirty non ti to non perdere il è un po' di calci ci ci è un po' di calci